Aspetti e vedrai. Sono senza zucco di tutti e due, e cioè lo turso e la tarsa. La tarsa e lo turso. Lo turco. Lei cosa farebbe? Che farebbe? Lo vede? Non lo sa nemmeno lei. Questo invece lo sa. Lo sa e ne approfitta. Cosa pensa lei? La smetterà una volta. Lei pensa così perché è un quarant'uomo, una persona per bene e ha fiducia nel prossimo. Questo invece no. E continua. Guardi un po'. E continua, continua, continua. Continua sempre. Sempre. No, lei non continua più. Se non va alla cassa e paga il supplemento. Eh. La prepotenza. Ecco, questa sarebbe l'unica soluzione. La prepotenza? E sì perché, diciamocelo francamente, caro signor... Lo turco. E i tipi come lei sono quelli che si faranno mettere i piedi sulla testa. Sulla testa? Eh già. Perché vede il signor... Lo turco. Lo turco. Lo turco. Vedi signor lo turco. Lei rappresenta la parte sana, la parte onesta, la parte pulita del paese. Viceversa quelli sono proprio la parte... capito? Ma quelli chi? Ma come quelli chi? E di chi stiamo parlando? Degli speculatori, degli esosi, degli approfittatori. Cioè dei ragionieri casoria. Ma chi è questo ragioniere casoria che viene in mezzo ogni tanto? Oh, è quello che si frega lo zucchero. Ma a casoria si frega lo zucchero? E anche il carbone. Zucchero e carbone? Eh già. E non va in galera? No, perché questi sono furbi. Questi rassendono il codice penale, ma non incappano dentro. Ah, no, no. Guardi, guardi quello là. Ah, quel tipo. Ma non guardi però. Guardi. Ma non guardi. Ma come faccia guardare senza guardare? Guardi, ma non faccia vedere che guarda insomma. Va bene questa? Sì, questa qui. Quello lì. E chi è quello? Ragioniere Casoria. Ma che casoria? Vicino. Vicino Casoria. Eh, fratta Maggiù. Eh, fratta Maggiù. Ma che Caivano? Ma che Caivano? Oh, signor Odolo. Signor Odolo, la Maria Capuola. E me, io glielo ho detto fino adesso per l'educazione, ma lei è proprio fesso. Oh. E me? Oh. Come me? Non glielo ho detto mai nessuno. Eh, no, ma adesso me l'avete detto che faccio. Ci sarebbe una soluzione. Oh. C'è una soluzione? Esatto. Adeguarsi. Ah. Adeguarsi. Venga con me. Avete detto? Questo è il segreto. Sentiamo. Ma quale segreto? Se io fossi lei, mi adeguerei. Ma scusi. Lei è una cosa?